Arriva il Via Libera dalla Regione Puglia per il finanziamento del progetto presentato dalla Casa di Ripuso Regina Margherita di Barletta. Quasi 3 milioni di euro che saranno destinati ad opere di ristrutturazione e alla realizzazione di una nuova ala dell'immobile. Finalmente il giorno 30 si firma il protocollo d'intesa con la Regione, quindi sono stati assegnati definitivamente i 2 milioni e 990, insomma, oltre quasi 3 milioni di euro alla Casa di Ripuso per la costruzione di una nuova residenza sanitaria, cioè una nuova residenza sanitaria assistita e più la ristrutturazione anche del vecchio opificio, quello antico. Questo significa innanzitutto sviluppo nella città perché ci saranno nuovi posti di lavoro, almeno per quanto riguarda la RSSA, e significa anche valorizzare il bene che già abbiamo come patrimonio del Comune di Barletta. Risorse derivanti dal programma operativo FESR 2007-2013 che rischiavano di andare perdute se non fosse intervenuta la recente delibera di giunta con cui il Comune, proprietario della struttura, ha autorizzato una donazione modale di una quota immobiliare per un valore di 130 mila euro, così da consentire alla Casa di Ripuso di mantenere il requisito patrimoniale fissato dal regolamento regionale, evitare lo scioglimento della stessa società pubblica e non pregiudicare il finanziamento per la realizzazione del progetto. Nelle scorse settimane, infatti, la Regione Puglia aveva comunicato all'azienda l'avvio del procedimento di scioglimento a causa della carenza del requisito patrimoniale per l'iscrizione al registro regionale delle ASP, risultando essere quella attuale di circa 380 mila euro. La donazione modale, che dovrà ora passare dal valio del Consiglio Comunale, ha consentito invece il raggiungimento della quota minima richiesta di 500 mila euro. Questa è una bella operazione, abbiamo concluso una bella operazione sociale, soprattutto per quelle persone che in qualche modo sono sole e hanno bisogno di sostegno dal punto di vista sociale. Grazie.